ragazzi quando venite da noi portateci la vostra bandiera della vostra squadra preferita di calcio così la mettiamo come ricordo negli appartamenti andate a stare, guarda quanto la fai ecco, tira te, ma chi deve? oh, voi usate la vostra di caffetiera caffetiera? sono venuti in ufficio a rubare la nostra caffetiera e li abbiamo costretti a ricomprare la loro di caffetiera ora, visto che la nostra è vecchia, la prendiamo e la riportiamo di sopra portateci la bandiera del Milan, dell'Inter, la bandiera, quella del Cagliari no, ci ho già pensato io portateci quella della Lazio Juve sì, anche Juve, Fiorentina Milan, perché io tipo per Milan e il Venezia